Direi di sì, al di là della bravura per carità del Potenza, credo che siamo stati penalizzati per l'espulsione, lì ci ha penalizzato un po', però credo che abbiamo preparato tutta un'altra partita e dobbiamo fare un po' più di attenzione su una fase di non possesso e dobbiamo migliorarci su questo. Mi dispiace per i tifosi che sono venuti in tanti. Sul 2-1 a fine del primo tempo aveva pensato che si poteva recuperare questa gara? Sì, perché è chiaro che è sempre difficile, ci ho pensato, però abbiamo preso dei gol dove dovevamo fare un po' più di attenzione, secondo me. Senta, si aspettava di arrivare sulla panchina della Juve Stab e trovare una squadra così? No, io ho molta fiducia nei ragazzi, bisogna dire che siamo stati penalizzati con l'uomo in meno, ci ha un po' condizionati un po' tutto, essendo una squadra giovane, io credo che questo ci deve servire per esperienza, che quando non si può vincere si deve portare via a casa anche il punto. Mancano quattro giornate, quale resta all'obiettivo? L'obiettivo resta sempre quello di fare bene, fare punti per la salvezza.